Nella fase a orologio dove in due partite si è guadagnato ben 19 minuti di utilizzo Intanto arriva la gran tripla Resta Trovarelli, scarica fuori, arriva la palla persa e lo stesso Ortail Ancora Erba, adesso si prende un tiro davvero in precario equilibrio Corre in contropiede Sassari con la palla altata Gira sul ferro ed esce Ortail, finta il tiro da tre punti, si arresta, serve Giovanni Cattac Poi ancora Ortail da lontano Grande spettacolo anche in questa sfida Qui alla vetrifrigo Arena rubata di Ortail Che poi si impola in contropiede Ortail con il palleggio vivo, un palleggio, arresto, tiro, due punti Numero 43 Dunque c'è la tripa di Ortail, crancanè Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti